Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 19 novembre, oggi è una bella giornata dal punto di vista del meteo, quindi abbiamo il sole finalmente tornato a splendere dopo giorni e giorni di pioggia come sempre iniziamo appunto la giornata con la lettura dei giornali, passando però attraverso il santo del giorno e poi il meteo Oggi è Santa Matilde di Acheborn, Santa Matilde di Acheborn, visse nel XIII secolo Acheborn è una località della Sassonia in Germania Santa Matilde fu di una nobile famiglia, fu suora, maestra e consigliera spirituale delle monache fu una grande mistica, a lei Dante si ispirò per la figura di Matelda nel Purgatorio quindi una santa che non è molto conosciuta, il nome non è molto usato però insomma ha avuto una grande influenza anche nella storia della chiesa e vediamo il meteo, finalmente la mappa della regione piena di sole ma c'è anche qualche nebbia una giornata soleggiata con locali manchi di nebbia tra notte e mattino sulle vallate appenniniche ci saranno anche delle foschie serali, le minime sono il calo, mentre nei giorni scorsi si oscillava tra gli 11 e i 13 gradi oggi si oscillerà tra gli 8 e i 14, quindi un pochino di più le massime e di meno invece le minime E allora diamo un'occhiata subito alle prime pagine dei giornali a partire dal resto del Carlino c'è molta cronaca oggi, molte notizie di nera e vedremo veramente, siamo precipitati in una fossa di cui non si vede il fondo soprattutto ci sono notizie belle ma ci sono anche notizie non molto belle vediamo subito la sintesi sul resto del Carlino il titolo che appare a tutta pagina non fa mistero studente al prof, ti spezzo le gambe l'insegnante gli annuncia una nota in arrivo, lui lo minaccia poi scarica l'estintore insieme ad un amico, quasi per una reazione in consulta doppio furto nelle banche, è stata trovata l'auto dei ladri e poi il parco di Vismara è assediato dai baby vandali e la notizia invece evidenziata dalla foto di centro pagina fa riferimento alla terza dose che verrà somministrata agli over 40 Acquaroli si dichiara contro il Green Pass, è rafforzato, crea tensioni ha detto, vedremo un po' qualche sua dichiarazione in più all'interno delle pagine del Carlino e in merito alla lotta al Covid nessuna regione diventa gialla ma le marche sono attenzionate, anche oggi siamo lì al limite c'è ancora il problema degli animali predatori nel nostro territorio a Urbino i cinghiali sono a due passi dai college ai capocini invece un uomo spara tre colpi in aria è stato denunciato a una pistola scacciacani insomma un atteggiamento che ha messo paura non poco a chi lo ha sentito, lo ha ascoltato e veniamo allora alle notizie di cronaca sembra veramente che le scuole siano diventate un brox un termine magari così che viene usato impropriamente però rende bene l'idea dell'atmosfera che vige negli istituti scolastici specialmente quelli di Pesaro raid di tre allunni, insegnante si rompe un dito al Bramante Genga arrivano i carabinieri venivano da un'altra scuola due poi sono fuggiti, l'altro no la preside è disagio diffuso qui c'è qualcosa che non va accidenti se c'è qualcosa che non va hanno animato la mattinata di due prime classi del Bramante Genga con un raid in piena regola tre studenti, tutti iscritti in un'altra scuola quindi non c'entravano nulla in questo istituto sono entrati prima in una classe e poi in un'altra con atteggiamenti arroganti per attirare l'attenzione dei coetani prima se la sono presa con le bottiglie del disinfettante poi approdati nella classe accanto hanno preso l'estintore sbattendolo sulla cattedra è arrivata l'insegnante alla cui vista due sono fuggiti il terzo invece era anche lui pronto a svegnarsela ma è stato bloccato dalla professoressa l'insegnante nella concitazione si è rotta addirittura un dito quindi veramente una situazione così un'esplosione di violenza gratuita che non aveva alcun senso e non aveva alcun fine pestaggio alla rocca malatestiana per lo smalto ve lo ricordate è accaduto a Fano due ragazzi sono stati malmenati e ora se c'è ieri si è celebrato il processo a carico del ventenne moldavo Robert Costas l'altro maggiorenne del branco che l'8 maggio scorso ha cerchiato e aggredito alla rocca di Fano due amici pesaresi Luigi Lupini e Simone Pesquino Al Benelli ancora paura nelle aule studente al prof ti spezzo le gambe l'insegnante stava per mettergli una nota per il suo comportamento il sedicenne ha reagito con le minacce poi insieme a un amico ha scaricato un estintore nei corridoi entrambi sono stati denunciati dai carabinieri è stato il dirigente ad avvisare le forze dell'ordine poi il professore ha raccontato il grave episodio che si è verificato in classe e su questo articolo di spalla del Carlino vediamo l'esito di un altro caso quello che ha visto un ragazzo dare un pugno in faccia al docente adesso il caso finisce in procura insomma sono fatti importanti questi non sono ragazzate e quindi gli esiti possono essere veramente importanti anche per il futuro della vita di questi ragazzi vismara il parco assediato dai baby vandali il presidente di quartiere e i residenti segnalano i continui danni sabato scorso sono scappati questi vandali dopo essere stati scoperti si tratta di un gruppo di giovani dai 15 ai 20 anni hanno forzato e scassinato imbrattato con scritte e graffiti un po' le casette che si trovano nel parco la sala di proprietà del comune ha avuto distrutta la porta le serrature sono state forzate e poi sono state danneggiate anche due radio microfoni e quindi rubati nella sala delle proiezioni insieme a sedie e altri oggetti che erano presenti all'interno della struttura ed ora veniamo alle dichiarazioni del presidente della regione Marche Acquaroli no al green pass rafforzato nessuna zona gialla ma noi siamo nel merino ha detto il governatore si esprime contro l'ipotesi di nuove regole restrittive il sottosegretario Costas Friuli, Veneto e Marche sono da attenzionare e vediamo che cosa ha dichiarato in sintesi il presidente Acquaroli anche se il contagio ha ripreso a correre dice siamo in una fase diversa dallo scorso anno e nonostante il primo e il secondo green pass non stiamo vedendo un aumento scolmongente delle vaccinazioni Acquaroli lo ha detto a Sky TG24 una dichiarazione insomma che bilancia le due situazioni secondo il presidente spara tre colpi in aria incastrato dei video era un'arma giocattolo del tutto simile ad una vera il responsabile è un marocchino appena tornato libero dagli arresti per droga aveva sparato tre colpi di pistola in aria nei pressi dei Capuccini lunedì scorso 15 novembre alle 11 della mattina ai Capuccini a Pesaro vicino al Cavalcavia ladri scatenati svaliggiati tre ville spariti denaro e gioielli accaduto in località Psella poco distante dalla trafficata a Monte Labattese nella prima villa i ladri sono entrati forzando una finestra al piano terra e hanno portato via oggetti di valore preziosi e denaro per un valore di circa 10.000 euro ma comunque avevano studiato bene il colpo perché poi sono passati ad altre due ville vicine le hanno ispezionate e le hanno spogliate di ogni valore trasportabile nel giro di poco tempo poi sono date alla fuga e di loro al momento nessuna traccia doppio colpo notturno alle banche individuata l'automobile rubata è una Ford Focus sottratta a Gradara mezz'ora prima dei furti in arrivo a sistemi di allarme più sofisticati per impedire queste azioni criminesi criminose all'interno degli istituti di credito una notizia di politica il Partito Democratico congresso regionale verso il rinvio e qui Gambini sfida la candidatura di Tiberi nelle Marche si profila un commissariamento di qualche mese per la segreteria comunale spunta un contrasto alla linea Ricci giriamo ancora le pagine del resto del Carlino e vediamo una impresa fatta da una signora da una ciclista si tratta di Orietta Casolin che ha percorso in bicicletta tutto il tragetto da Venezia a Roma basta femminicidi e questo è un po' lo scopo di questa impresa in bici contro la violenza fa tappa a Pesaro l'iniziativa una corsa per un'amica la lunga pedalata della ciclista Casolin appunto da Venezia a Roma nell'ultimo anno sono state 120 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza di Pesaro un dramma che si ripete di anno in anno nonostante la sensibilizzazione che si fa contro la violenza alle donne soprattutto nelle scuole ebbene anche in questo caso anche nel nostro territorio purtroppo si ripetono casi di aggressioni da parte di partner di mariti di compagni nei confronti delle donne Santa Maria dell'Arzilla una petizione al sindaco il foro boario resti uno spazio per i ragazzi hanno detto i residenti proprio oggi arriverà Ricci nell'ambito del suo tour per i quartieri sono 66 residenti che hanno firmato la lettera l'obiettivo è rivedere il progetto finanziato con i fondi europei ma c'è anche chi è d'accordo con la linea delle comune quindi diverse posizioni che il sindaco dovrà sintetizzare nella sua visita di oggi e siamo giunti alla pagina di Fano il punto vaccinale non traslocherà a Marotta e questa è la bella notizia che è spuntata ieri dall'incontro organizzato dal sindaco Massimo Seri con gli uomini della protezione civile ma anche con i sindaci del territorio di quei comuni da cui provengono poi i volontari che a loro spese per otto mesi hanno presidiato l'hub del Codma per assistere un po' tutti coloro che dovevano essere vaccinati e hanno un po' seguito le file hanno dato informazioni hanno assistito a chi si trovava in difficoltà gli operatori dell'associazione CB Mattei torneranno molto presto forse già da lunedì al Codma per supportare l'Azur fino ad aprile tramite l'ambito territoriale si copriranno le spese dei volontari sono solo rimborso spese non sono stipendi non sono somme che vengano pagate per questo impegno ma solo rimborsi di benzina spese di organizzazione insomma le spese vive che sostengono questi uomini che sono così caratterizzati da un grande senso di solidarietà trave raccolte le firme contro le misure viarie sono 500 le firme raccolte dai residenti di questo quartiere contro i provvedimenti adottati dalla Giunta Seri due ristringimenti della caleggiata dalla parte di via della giustizia e una mini rotatoria nel secondo tratto della strada sono strutture che sono state contestate dai residenti stessi che avevano pur chiesto dei provvedimenti per limitare la velocità dei veicoli che percorrono il primo tratto di via trave la strada dicono deve tornare come era in precedenza quello che serve sono un limite dei 30 km che già c'è un autovelox e controlli frequenti da parte della polizia locale via dunque i restringimenti rifiuti abbandonati un quarantenne nei guai pneumatici ed elettrodomestici piazzati nelle isole ecologiche la polizia denuncia un cingalese il materiale stato recuperato e conferito correttamente nei centri autorizzati all'uomo sono stati sequestrati preventivamente due autocarri e poi abbiamo una notizia per quanto riguarda la politica fanese il partito democratico a congresso futuro democratico punta sul docente Riccardo Tonti Bandini due emozioni e candidati idem presentano Tommaso della Dora aeroporto la provincia vende nessuno compra non sono interessati gli altri due soci né il comune di Fano né tantomeno la camera di commercio che da tempo ha messo in vendita anche le sue quote senza trovare anch'essa nessun compratore e con ogni probabilità neppure i privati vorranno sobbaccarsi di questa impresa la situazione è Istallo e quella in cui si trova da anni l'infrastruttura fanese insomma ancora un esame della situazione dell'aeroporto che verrà poi approfondita nella riunione della commissione di garanzia e controllo convocata dal presidente per lunedì prossimo società pubblico privata per produrre tinte naturali a Pergola sta nascendo un'iniziativa dell'amministrazione comunale tutto è scaturito dal progetto ideato dall'assessore alla cultura è una storica attività questa nella città tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo si svilupparono l'arte della tintoria il tessile la lana iola dalle conci di pelle e del legno insomma un'attività che viene riproposta per un suo trascorso veramente importante Amarotta il flash mob dei no green pass la nostra speranza dicono è che questa iniziativa sia presa ad esempio e riproposta in diverse città a Urbino locali e alcol nuova ordinanza meno restrittiva il sindaco Gambini i capigruppo consigliari stanno discutendo una delibera da votare queste regole sono in attesa delle future decisioni dunque una nuova ordinanza sul consumo di alcol nella città ducale sarà valida fino al 19 di dicembre firmata dal sindaco Gambini è la terza che si sussegue sicuramente è più distensiva delle precedenti l'ordinanza nuova prevede il divieto di somministrazione a vendere le bevande alcoliche e superalcoliche anche da asporto da l'1.30 che diventano le 3 per le discoteche alle 6 di venerdì sabato e domenica i cinghiali assediano i collegi universitari gli studenti sono preoccupati c'è chi non esce dalla camera perché teme come spesso accade di trovarsi di fronte agli animali anche se di solito i cinghiali non attaccano l'uomo ma il problema però si fa importante perché oltre ai cinghiali c'è anche quello dei lupi e i lupi si avvicinano sempre più ai nuclei urbanizzati in questi giorni sono arrivati addirittura alla periferia di Fano nei pressi del torrente Arzilla dove hanno ucciso anche una capretta a questo punto passiamo a vedere il Corriere Adriatico dove nella prima pagina si evidenzia la somministrazione della terza dose agli over 40 da lunedì si prenota slot anche per tutti i badanti richiamo obbligatorio per i sanitari il governo ci pensa il governatore inutili ulteriori restrizioni sul green pass lo abbiamo visto sono le dichiarazioni di Acquaroli corsa contro il tempo per trovare hub più grandi più funzionali più disponibili le tre notizie a centropagina pian del bruscolo unione blindata con 32 telecamere e 16 targa system per quanto riguarda la sicurezza del traffico ma anche dell'ordine pubblico a Urbino chiusure e no alcol a stretta di gabbini sulle notti ducali a Fano con i rimborsi spesa lab vaccinale rimane al Codba e poi abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda l'ordine pubblico nelle scuole Benelli prof sotto assedio pugni minacce e denunce giriamo subito all'interno le pagine interne del Corriere Adriatico e passiamo a vedere la situazione sanitaria per quanto riguarda la mobilità passiva uno dei problemi più gravi che affliggono la nostra sanità per la mobilità passiva dice il titolo il confine romagnolo è la falla delle Marche nell'anno pre-covid oltre 10.000 ricoveri fuori regione di residenti della provincia di Pesaro Urbino nei distretti serviti da Marche Nord c'è uno sbilancio con il trend attivo di 5.600 pazienti vediamo un attimo come viene questo numero questa questa somma ebbene in un anno a Marche Nord sono stati ricoverati 1.579 pazienti provenienti da fuori regione e questa è una mobilità attiva però nello stesso periodo 7.226 cittadini dei distretti sanitari di Peso Rifano serviti dall'azienda ospedaliera si sono recati fuori regione per un ricovero ospedaliero e quindi ecco perché la differenza è passiva per la nostra regione di 5.600 pazienti fuori regione per i nostri tempi possiamo riavere questi pazienti lo ha dichiarato il direttore dell'area vasta 1 Magnoni mobilità per prestazioni ortopediche che eroghiamo Magnoni sulla fusione con Marche Nord già siamo tutt'uno ha dichiarato insomma praticamente anche se non lo siamo così in maniera formale lo siamo in pratica Green Pass e mascherine per gli eventi di Natale in piazza a Pesaro addio al cuore la prefettura ieri ha riunito una commissione per quanto riguarda l'ordine pubblico e ha chiesto di cambiare il posizionamento dei gazebi troppo vicini da rivedere le disposizioni di via San Francesco e a Fano via San Francesco a Pesaro e a Fano al Pincio i mercatini al via il 27 novembre dunque per i mercatini natalizi tradizionali che apriranno dal 27 novembre a Candelara e Monbaroccio c'è l'obbligo del Green Pass nell'area perimetrata e contingentata da rivedere invece a Pesaro e Fano il posizionamento delle casette natalizie in alcune vie o spazi del centro storico che sono molto stretti e a rischio degli assembramenti a Fano il mercatino dovrebbe svolgersi sia nell'area Pincio che in via Arco di Augusto Black Friday sconto a rischio l'occasione non piace a tutti il nero venerdì insomma desta polemiche l'icurgo della Confesercenti stronca la promozione di fine novembre fuoco di paglia dell'Eterio ha dichiarato il peso sui prezzi dell'aumento delle materie prime Varotti della Conf Commercio invece enuncia i dati positivi ebbene anche il venerdì della Convenienza potrebbe risentire delle tensioni provocate dalla stangata autunnale dove l'aumento del caro vita è stato considerevole ecco perché ci sono dichiarazioni controverse ci sono uno dice nero uno dice bianco è importante argomenta Merigo Varotti il direttore dell'associazione Conf Commercio che sia un Black Friday in città e non online dove si prendono pure belle cantonate a meno che non siano gli operatori locali a fare il commercio elettronico insomma è un invito chiaro a comprare nei negozi e non fidarsi appunto del web professori aggrediti studenti denunciati ti taglio le gambe e ti ammazzo docente colpito da un pugno 24 ore dopo altri due episodi al Benelli il dirigente indagine interna anche sul Corriere Adriatico si sintetizza quanto avvenuto nelle scuole pesaresi con grande preoccupazione per l'escalation di questa violenza accusa di doping per la patinatrice la soluzione per il dottor Porcellini il medico nutrizionista pesarese ci sono voluti sette anni per dimostrare che il fatto non sussiste si parla della patinatrice riminese Sara Venerucci già campionessa italiana e mondiale di patinaggio artistico che è stata assolta con formula piena dalle accuse legate al doping Riviera Riviera Banca 70 mila euro per i giovani l'istituto di credito cooperativo è in forte crescita nei primi nove mesi l'incremento della raccolta è pari a 3,1 miliardi impegno massimo nel campo sociale con la sedicesima edizione delle borse di studio Paolucci e il premio per i talenti una bella foto di tutti gli studenti premiati da Riviera Banca che è vicina agli studenti 70 mila euro di borse di studio a Vallefoglia un'unione stile grande fratello 32 telecamere e 16 targa system presentato il potenziamento da 300 mila euro i controllori elettronici sono sparsi sul territorio e salgono a 188 si tratta di un sistema utile per rintracciare veicoli rubati senza assicurazione oppure individuare determinate auto il cui proprietario deve essere rintracciato un aiuto importante per le forze dell'ordine a qualsiasi settore se appartengono e a Urbino vediamo la nuova ordinanza emessa dal sindaco Maurizio Gambini stretta sugli alcolici nel weekend di vieti estesi anche alle discoteche la nuova ordinanza è stata emessa per frenare gli eccessi nella notte e sarà attiva da oggi al 19 dicembre prossimo e poi la cerimonia organizzata per Sirto Sorini tutti in piedi per questo cittadino Stendardi cittadini per lo storico della festa degli Aquiloni morto a 88 anni un personaggio molto conosciuto a Urbino e molto caro agli Urbinati sulla pagina di Fano anche il Corriere evidenzia come l'esito dell'incontro con la protezione civile e i sindaci sia stato positivo l'hub vaccinale resta al Codma rimborsi alla protezione civile l'impegno dei comuni del Fanese per reperire 18 mila euro per le spese dei volontari e qui vediamo una foto del sindaco Massimo Seri insieme agli altri sindaci del territorio insieme ai volontari ai responsabili anzi delle associazioni di volontariato per quanto riguarda la protezione civile e poi un'operazione delle forze dell'ordine lascia due quintali di pneumatici nelle isole ecologiche è stato denunciato identificato un imprenditore 11 episodi di abbandono di rifiuti tra Pesaro e Fano ebbene polizia e carabinieri e forestale insomma hanno collaborato per rintracciare questa persona che abbandonava un po' i rifiuti anche pericolosi un po' da una parte e dall'altra Rio Crinaccio resta ancora un problema secondo la Lega che evidenzia le carenze che esistono ancora per impedire che le alluvioni per impedire che i nubi fragili del territorio procurino grandi danni come è accaduto nei giorni scorsi con l'ultimo temporale insomma una denuncia di carattere politico ma anche di carattere strutturale Cartoceto perde 79 mila euro per la mancanza di due piani e sono stati così ridotti fondi statali per le mura tra le inadempienze e quella contro le barriere architettoniche insomma una svista dal punto di vista burocratico produce una penalità maturata perché è venuta meno l'approvazione entro il 31 dicembre del 2020 del piano urbanistico attuativo e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche e quindi 79 mila euro che dovranno essere reperiti nel bilancio comunale a Pergola distretti delle tinte naturali una società pubblico privata hanno aderito regione Assam c'è spazio c'è spazio anche per gli imprenditori a Senigallia gestione delle saline 5 al giudizio Mangialardi è una follia totale anche l'ex sindaco rimasto impelagato in questa situazione della piscina con l'ex sindaco a processo per abuso d'ufficio anche l'ex vice Memè e l'assessore Bucari insomma tre imputati assolti cinque rinviati a giudizio e alcuni capi d'accusa prescritti è terminata così l'inchiesta sulla gestione della piscina a Saline di Senigallia a processo andranno coloro che hanno scelto di procedere con il rito ordinario ovvero l'ex sindaco Maurizio Mangialardi l'ex vice sindaco Maurizio Memè e l'ex assessore Simonetta Bucari e ancora per quanto riguarda Senigallia un articolo che riguarda una coppia di cittadini Elide e Giuseppe insieme fino alla fine sono morti a poche ore uno dall'altra lui aveva 89 anni lei 85 hanno condiviso anche il lavoro nella bottega da calzolaio di via Battisti e se ne sono state e se ne sono andati via insieme dopo aver vissuto insieme un'intera esistenza il cordoglio di chi li ha conosciuti questo per il momento è tutto per quanto riguarda le notizie di Bianca e di Cronaca vediamo ancora qualche notizia di sport c'è il tempo soltanto per dirvi che per la visse è stata dura ma ora ci sono anch'io lo dichiara Tonso il talento argentino a due mesi dall'infortunio grazie al club ai tefosi per essermi stati vicini qui ho trovato il mio ambiente e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento alla rassegna stampa di domani alle ore 7 altre notizie di oggi questa sera nel TG delle 20 e 30 buona giornata grazie a tutti